La Presidente ha già illustrato il nostro impegno attivo sul territorio. Io voglio soltanto precisare che il nostro impegno attivo sul territorio è esclusivamente di prevenzione perché naturalmente la prevenzione è quella che serve e serve soprattutto nelle nuove generazioni. Contiamo molto sulle nuove generazioni che vorremmo tutti noi insieme a tutte le altre strutture della società educare al rispetto degli altri. Ecco perché oggi questo convegno è molto importante e naturalmente l'intervento delle scuole serve proprio a sensibilizzare questi giovani proprio al rispetto della non violenza. Oggi sappiamo tutti perché anche i media naturalmente ci bombardano di queste notizie. E' sempre più frequente sia la violenza diretta, cioè il bullismo, sia attraverso la rete. Rete che i giovani utilizzano sempre e comunque. E' inutile ripetere che ha anche soppiantato la famiglia, il computer già in giovane età diventa quasi il compagno di vita. Ed è da lì che scaturiscono naturalmente insieme alle cose positive che sono tantissime della tecnologia anche purtroppo le cose negative. Questo convegno oggi mira esclusivamente a far conoscere quelli che sono gli estremi di un atteggiamento che è diventato reato e che il nostro diritto naturalmente ha cercato di normare e di regolarizzare soprattutto perché questo tipo di reato si sviluppa tra i giovani che sono naturalmente una fascia debole, più sensibile e più diciamo anche vulnerabile da questo punto di vista. Speriamo veramente che la nostra attività, naturalmente che è giuridica, diventi anche sempre di più sociale.